Io penso che il nostro Dio non è rimasto seduto sulla nuvola. Si è fatto uomo tra gli uomini. Per questo, la crocifiazione, la ressuscifizione, la crocifiazione, la ressuscifizione. Quando parli a te non ti capisco. Come stai? Bene. Lei è mia zia. Cezia. Lui è Pippo. Filippo Vigna l'insarfati, detto Pippo. In effetti non è quello che voleva Margherita. È che io non voglio che il capitano si sposi. Io lo amo. Ma non è Sant'Agostino che dice ama e fai ciò che vuoi? Ma lo dice anche Dio, Maria Gesù. Ah, senta Don Matteo. Ha visto mia zia oggi? No, oggi non è venuta in canonica. Ok. Ti sei fatto male? Fa' il culo! Ti porta con lei la radio. A te. Non ti fanno entrare, non ti fanno entrare. Io sono qui per questo. Pietro chiese, è sicuro che la maestrina è adatto al capitale? Gesù gli rispose, la vita è tutto un equilibrio sopra la follia. Don Matteo, ma che sta dicendo? Bella domanda. Don Matteo, mi sposo. Ricordati, Celeste, tu sei molto di più. Tu sei molto di più? No, niente. È una cosa tra me e tua zia. E tu sei molto di più. No, niente. No, niente. Che sta studia al cinema? Va. Grazie a tutti.